Quello che state vedendo nelle immagini realizzate dal nostro operatore sono i resti o meglio alcune testimonianze di Tribola. La città di epoca preromana è emersa grazie a numerosi fondi imbiecati ma oggi rimane una testimonianza in nulla più con parti cadenti perché non vengono poi effettuati lavori di manutenzione e restauri. L'importante sito archeologico si trova nella frazione di Tregna nel comune di Ponte Latone con Alessandra Isolda giovane studentessa in conservazione dei beni culturali abbiamo fatto un breve viaggio nel sito. Ci troviamo presso la porta megalitica più grande d'Europa sita presso Tribola Bagliensis è un sito archeologico scavato a più riprese negli anni e che offre una manifestazione archeologica unica e caratteristica di questi territori. Si tratta di una porta ad ogiva tronca che viene inglobata all'interno di un circuito murario in opera poligonale che è una struttura prettamente difensiva costruita in epoca oscosannita in particolar modo tra il quarto e il terzo secolo avanti Cristo per difendere il territorio dei sanniti caudini che qui abitavano dalla imminente invasione romana dei territori poiché era in atto l'espansione del potere romano e proprio questo meccanismo costruttivo viene esteso per tutta la circonferenza dell'abitato e parte da un nucleo più antico che è sito sull'altura Monticelli alla nostra destra e che probabilmente nasce con un terrazzamento a scopi principalmente religiosi. Le murature vengono poi estese verso il pianoro La Corte che è quello dove ci troviamo ora e la porta megalitica rappresenta uno degli ingressi principali della città. La sua struttura è definita a tenaglia interna, a tenaglia esterna e a corridoio interno e questa tipologia di struttura è presa in prestito dal mondo ellenistico e in particolar modo dalla costa campana che è quella maggiormente esposta all'influsso greco rispetto all'interno italico. La struttura è così conformata per una questione di attacco poiché permetteva ai trebulani qui residenti di difendere la porta e di accerchiare i nemici presso questo intaglio all'interno delle mura e di accerchiarli alle spalle grazie alle postierle laterali che sono disposte lungo il versante a destra e a sinistra della stessa. Qui invece ci troviamo presso i resti del complesso termale di Trebula Bagliensis. Una volta che Tredia fu riconquistata da Fabio Massimo dopo aver defezionato una precedente alleanza ed essersi legata con Annibale la città viene in un certo senso romanizzata e si assiste in questa fase alla costruzione del coro e del teatro e del complesso termale. Si tratta di un complesso a tutti gli effetti completo alle mie spalle vi è un frigidarium cioè una vasca d'acqua fredda che era completamente rivestita in marmo. Vi era poi questa grande aria dove sto in questo momento parlando e l'area era completamente rivestita da lastre marmore e si pensa che il pavimento interrato ancora oggi sia decorato con mosaici e con un'opera in opus sectile. Abbiamo poi una vasca che è destinata ai bagni d'acqua calda molto più piccola rispetto a quella del frigidarium anche questa costituita da un vano rettangolare e da un alveus ovvero un ambiente semicircolare dotato di pavimentazione ad ipocausto che era la conduttura che permetteva il sopraggiungere del calore che veniva creato da delle fornaci esterne alla struttura. Ove invece corre oggi la strada moderna che porta presso località Campole si ritiene possa esserci stato il vano del tepidarium e altre strutture pertinenti al complesso termale che suscitò comunque grande frequentazione si parla del complesso termale già nell'opera di Plinio il Vecchio che però morì nella devastazione pompeiana e per questo motivo abbiamo ragione di pensare che non sia questo il sito indicato da Plinio bensì quello che oggi possiamo vedere è una costruzione portata avanti in epoca costantiniana e ristrutturata in un secondo momento dal notabile locale Lucio Alfio Fagno. Dati i diversi crolli che si sono verificati presso la struttura delle mura e l'incuria in cui spesso e volentieri il sito è lasciato si auspica che le cariche politiche e amministrative nel senso più ampio dei beni culturali possano intervenire salvaguardare e valorizzare il sito di Trebula Bagliensis le cui importanti questioni storiche riecheggiano ancora nel presente. Da Trebula Bagliensis è tutto